noi siamo qua autostrada a 45 niente guarda guarda la daniele c'è la telecamera la vedi la telecamera piccola l'ha attaccata qua vicino a questo qua guarda quanti ce ne stanno là dentro guarda una funghiera guarda qua qua ma l'hai visto no guarda il canato questo è quello che ha visto guarda due ce ne stanno attenzione porcini giganti scioccante guarda quanti ce ne stanno ma sono tutti porcini guarda là c'è un altro quando qua guarda guarda aaaaaaah ahahah non toccare! non ti vuole! shock! fangeranato shock da la vita proprio questo si ha lo minimo un chilo all'uno mamma mia shock! Sì, non c'è nessuno